...decorrere molto bene... ...un dei cosiddetti velini... ...che erano free handling, però dotato da questi sistemi di... ...prevergono su un'avventura... ...e l'initazione per un nuovo piano di lancio... ...diverata veramente il rito... ...i che erano, qui verrano... ...e l'initazione per un piano di lancio... ...behia da energia... ...che erano freddolph... ...e che erano freddolph... ...e che erano freddolph... ...bescara di l'initazione per un Regionale... ...deci tre... ...e che erano per un'attività... Grazie a tutti. Avete visto come il pilota avvia il pilota lentamente sull'asse longitudinale del fighter è un altro punto di forza di questo cammino con il carrello strato, velocità in rivoluzione, luce che il carrello è accese e poi a breve un esubero di potenza straordinario. Dopo aver fatto rientrare il carrello, i propulsori spingeranno... Grazie a tutti. Grazie a tutti.